Allora Alberto Forchielli del Fondo Mandarin Capital Partners è in collegamento con noi. Alberto, lei mi deve dire con chiarezza, ma più che a me, ai telespettatori a casa, per la finanza, per l'economia, questo discorso cosa vuol dire per le nostre tasche? Brutto. Com'è brutto? Ma brutto brutto. Beh, sì, buy America vuol dire protezionismo, quindi vuol dire tariffe, prezzi che si alzano, erosione del potere d'acquisto e probabilmente una recessione. Hire America vuol dire la fine dell'America aperta, che attrae talenti e che prospera sui talenti che l'hanno resa quella che è. Quindi sotto l'aspetto economico è un disastro. Ma scusi, ma i mercati in questo periodo sono molto cresciuti, Wall Street sta arrivando a quota 25 mila, che è un punto fondamentale. Lei è molto sintetico, però quindi mi faccio capire. No, 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 ha ragione, ma cambierà un'idea presto. I mercati sono illusi dal fatto che lui farà un grande piano infrastrutturale, però il congresso è contrario. I mercati si sono entusiasmati da questo taglio delle tasse, che probabilmente riuscirà a fare, ma mai nella storia moderna un paese è riuscito a riemergere economicamente con un taglio delle tasse. E mai nella storia economica moderna un paese è riuscito a vendire fuori o accelerare la crescita con l'imposizione di tariffe. Per cui sotto l'aspetto economico c'è stato un attimo di entusiasmo, ma credo che la borsa adesso torni a calare, appena vendono le cose che riesce e non riesce a fare. E per l'Italia che conseguenze ci sono, Forchielli? Beh, io penso che la borsa adesso cala e cala anche il dollaro, perché il piano infrastrutturale è molto difficile da realizzare, perché al congresso non va. Ma per noi italiani chi se ne importa? Sto dicendo noi italiani, Forchielli, noi. Può per noi fa poca differenza, tanto siamo così nella merda, però in teoria siamo legati alla catena del valore tedesco, quindi la nostra crescita si potrebbe comprimere un altro po'. Però se passa al piano tarifario forse riusciremo a portare a casa qualche lavoro da quattro soldi da oltreoceano, può darsi. Però per noi non vuol dire granché, ma di buono non c'è niente in tutto questo. Maria Giovanna Maglia, tu sei di impostazione liberale, quando però Forchielli lo dice in maniera chiara, romagnola, dicevo ragazzi... Ma insomma... Beh, chiara, le tariffe non aiutano l'economia. Adesso non mi fa dire quello che penso, perché lo fa sgarbi benissimo questa parte, e io non sarei capace di farla bene come lui. Ma le tariffe aiutano un liberale? Un liberale ama le tariffe, ama i dazzi? Allora io voglio sapere che cosa succede se un'azienda americana continua a produrre in Messico, che cosa gli fa pagare? Quanto ha detto che gli farà pagare? Un 35%, perché rispetto al fatto che sono andati in un posto in cui producono a meno e non pagano tasse, eccetera. 35% ti pare un dazio terribile a te? Ma insomma... Rispetto al... quanto pagano qui le aziende? Ah, di tasse ne pagano molto più. Ah, ecco, appunto. Ma voglio dire, io non capisco niente dell'economia e ne vado piuttosto fiera. Una volta ho letto Maledetti Economisti di Sergio Ricosse, ho capito che non conveniva occuparsene. Mi piace capire le cose più dal punto di vista politico che economico, anche perché se sento un discorso come quello di questo signore mi cascano le braccia, diciamo. E il punto è, se ci sono dei problemi in un paese di posti di lavoro che mancano, si dovrà fare qualcosa o no? O siccome siamo tutti liberisti liberali per la globalizzazione, non si può fare nulla. E seconda cosa che vorrei capire. Ma che cosa vuol dire che se si abbassano le tasse non si riprende l'economia? Noi andiamo ripetendo da anni che l'unica ricetta per salvare questo paese, e io ci credo da non esperti all'economia, è tagliare la spesa pubblica e abbassare le tasse e invece non è così. Sgarbi, tu che d'economia non ci capisci nulla, però c'è una bella verve polemica, mettiamola così, almeno questo fatto di un'America chiusa, mettiamola socialmente, anche questo ti sembra un passo avanti, lascia perdere adesso i bombardamenti, la Clinton e tutto, ma un'America chiusa è il futuro? Ma chi ha detto che è chiusa? Sì, io sono convinto che l'America chiusa sia il futuro, che l'Inghilterra chiusa sia il futuro, che l'Italia chiusa sul futuro, e mi occupa da molto tempo di economia, ho visto che da quando l'euro è nato, e io ho parlato con molti cittadini che hanno condiviso il mio parere, il dottor Forchielli forse ha un parere diverso, ma ci hanno rubato quello che era un potere d'acquisto della lira, portando tutti i beni di piccolo costo al quadrupo del loro valore, sono partito dal ghiacciolo per arrivare al caffè, al giornale, all'elemosina, prova a dare 0,20 centesimi a un mendicante, ti ritira dietro. Allora, io ascolto l'amico bolognese Forchielli, che ho scoperto oggi esistere, ma siamo vissuti fino a qualche minuto fa senza Forchielli, e il fatto che su sia così catastrofista, mi fa credere che hai trovato un opinionista, che va benissimo per Grillo, ma che appare all'orizzonte, non so con quale autorità dica queste cose catastrofiche, che sono molto graziose, poi è bello, pelato, bolognese, ma chi cazzo è? Ma chi cazzo è? Ma che cazzo ha fatto? Ma dove cazzo viene? Ma qual è il suo fatturato? Ma non ride! Ma qual è l'economia sottile? Ride perché è un morto di sonno e non ha mai fatto un cazzo per quanto è grasso. Io nella mia vita ho guadagnato 20 volte più di lui senza fare l'economista, senza giudicare l'economia americana. Chi cazzo di giudice è? Abbiamo il nuovo Di Pietro che giudica Trump. Chi cazzo è Forchielli? Ma dove cazzo l'hai tirato fuori? Ha trovato Piazza Pulita? Forchielli! È l'ultimo morto bolognese che sentenzia sull'umanità. Ma vada a fare in culo, Forchielli. Vada a scopare. Si diverte di più. Ma avrà scopato anche poco. Forchielli, 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 la prego. Ha scopato un millesimo, uno che scopa poco. Basta, ho detto, la regia! Abbiate pazienza, Forchielli, per favore, abbia pazienza. Scusa, posso difendere Forchielli un attimo? Ma no, fatemi dire che è Forchielli, Ma non è vero che è di Bologna, è di Imola. È di Imola, Forchielli? Sì, beh, io sono bolognese, sono bolognese e imolese. Senta, ma lei che cosa fa, dice Sgarbi? Lo spieghi al pubblico a casa, per favore, perché io lo so bene, però il pubblico a casa non sa cos'è il fondo mandare in capital. No, io investo soldi, compro aziende, le porto in borsa, le rivendo, le fondo. Niente di particolare, ossia sono molto contento di questo affetto sgarbiano. Ho studiato negli Stati Uniti, vivo a Boston, ci vivo quasi da 40 anni, ho la mia opinione, poi magari ha ragione lui, capito? Però, devo dire la verità, che economicamente questo è un disastro. Ah, voglio dire alla signora, signora, se lei mette 35% di tasse sulla roba che viene dal Messico, Wall Street va sottoterra. E infatti non accade, infatti rientrano tutti. Capito? Quando mi chiedeva Porro, perché la gente è così entusiasta, se per caso si realizza un'imposta di importazione al 35%, che loro stanno già discutendo alla Camera, eh ma distrugge mercati finanziari, perché gli utili delle multinazionali vengono devastati. Bene, pubblicità, pubblicità, e dopo la pubblicità vi facciamo vedere la first lady come non l'avete mai visto, cioè a casa sua. Però, scambi.